Il Teramo dà forse l'addio alle residue speranze di acciuffare la zona play-off perdendo di misura in casa della Lupa Roma penultima in classifica, ma squadra tutt'altro che rassegnata. In terra laziale i ragazzi di Vincenzo Vivarini hanno offerto una prestazione opaca al cospetto di un avversario che ha gettato in campo maggiore cattiveria agonistica di Speranza e compagni che devono così riporre nel cassetto i sogni di gloria e pensare a questo punto a chiudere la stagione senza correre rischi. In campo c'è una Lupa Roma a trazione anteriore con Belcaid, Tullio e Fofana in attacco fra i biancorossi di Vivarini, formazione praticamente annunciata con il solito 3-5-2 e le noci a ridosso di Forte. Al quinto Ricci si comincia sul filo dell'equilibrio, al terzo c'è però un cross teso dalla destra di Daffara che costringe Tonti alla respinta con i pugni. Al settimo c'è una buona opportunità per Forte che al limite dell'area sull'uscita di Anedda termina a terra e chiede il fallo con Nicoletti di Catanzaro che lascia però proseguire fra le proteste dell'attaccante biancorosso. Al nono minuto buona opportunità ancora per gli ospiti con Forte che in area lascia le noci che tira però alto da buona posizione. La gara è giocata a buon ritmo e con diversi capovolgimenti di fronte. Al quarto d'ora sugli sviluppi di un calcio d'angolo c'è una rovesciata alta in area abruzzese di Daffara. Il Teramo quando spinge crea problemi elaziali e così accade che al ventesimo di Polantonio in area ha la palla buona mancando però la mira e concludendo alto. Al trentaduesimo ancora di Polantonio crossa in area per Forte che si gira e mette però sopra la traversa pressato da un difensore. L'ultima opportunità è per i locali con un tiro centrale di Belcaid. Nella ripresa si ricomincia ancora sui binari della perfetta parità. Al quattordicesimo ci prova Forte dai 18 metri con la conclusione che termina di pochissimo a lato. Al sedicesimo di Polantonio forse tocca il pallone con la mano in area terramana con Nicoletti che lascia proseguire fra le proteste locali. Passa un minuto e sugli sviluppi di un calcio d'angolo è Fofanà ad incornare di pochissimo sopra la traversa. Al ventiseiesimo arriva la svolta della gara con Cruciani che tocca in area Malaccari e con Nicoletti che indica il dischetto. Il tocco dell'ex Beneventano è leggero ma Nicoletti non ne vuole sapere e assegna il rigore che Fofanà non sbaglia regalando il vantaggio ai padroni di casa. La reazione del Teramo si concretizza con una conclusione di Lenoce al quarantesimo. Respinta da Anedda che salva la sua porta prima dell'ultima opportunità che capita al 94esimo a Cruciani che colpisce in pieno la traversa di destro a sancire la giornata negativa del diavolo. La partita non è facile da commentare, il discorso se parliamo di episodi c'è da rivedere il primo episodio nostro perché su Forte all'inizio della partita c'è stata questa situazione lì da vedere ma non è da analizzare questi episodi perché lo sappiamo, noi dobbiamo fare di più. Oggi purtroppo abbiamo fatto di meno di quello che dobbiamo fare e questa è la grande delusione che ho, la grande rabbia perché fuori casa ci vuole un piglio maggiore e poi bisogna correre in campo, bisogna credere, bisogna essere più reattivi, più cattivi, più determinati altrimenti non riesce a esprimere le qualità che abbiamo. Quindi di conseguenza sono molto molto arrabbiato e purtroppo è andata così. L'impressione è che i giocatori della Lupa Roma abbiano messo in campo quella grinta, quella cattiveria che forse ai giocatori del Teramo è mancata. Perché? Sì, questo fa la differenza perché comunque poi tutti gli episodi sì, poteva essere risultato diverso ma noi siamo stati aggrediti, loro non ci hanno fatto giocare ma noi dovevamo giocare dovevamo metterci qualcosa in più che oggi non ci abbiamo messo. È chiaro che tu che ti aspetti che le squadre avversarie vogliono perdere, fanno di tutto per cercare di ottenere il risultato e oggi sono stati bravi perché comunque cercavano un episodio, sono riusciti a trovarlo e hanno vinto la partita. Un passo indietro comunque rispetto alle precedenti gare? Un passo indietro sotto l'aspetto della mentalità, dell'approccio alla partita, della cattiveria, della determinazione. Il calcio senza questi elementi qua non si può fare, la gente deve stare a casa a vederle le partite e se si va in campo bisogna dare di più, non bisogna essere superficiali, non bisogna perdere i duelli individuali. Oggi purtroppo si è visto tutto questo. Questa sconfitta chiude definitivamente un eventuale discorso playoff o comunque un avvicinamento alla zona importante della classifica? No, noi dobbiamo pensare a salvarci, dobbiamo pensare a fare punti. Questo era l'obiettivo. È chiaro che io non so che succederà da qui a un mese, però tu devi pensare a vincere. Cosa che io oggi avevo fatto capire, l'avevo detto, non so se loro l'hanno capito, che per noi era una partita determinante, importantissima e ci voleva un approccio diverso, una cattiveria diversa. Perché comunque dobbiamo pensare prima di tutto a salvarci e poi vediamo se ci stava da fare qualche altra cosa. Noi non abbiamo mai pensato di mollare, mai pensato di non farcela. Noi andiamo in campo pensando che ci sono undici finali. Oggi per noi è stata una vittoria importante, una vittoria che abbiamo voluto con tutte le nostre armi, l'abbiamo fatta nostra e siamo contenti di questo. Era questo il Teramo che pensavate di affrontare o vi aspettavate qualcosa in più dai Biancorossi? No, sappiamo che il Teramo è una squadra forte che doveva va cerca di imporre il proprio gioco. hanno un meccanismo di gioco importante già dall'anno scorso, collaudato, questo 3-5-2. Sapevamo di incontrare una squadra forte, ma ripeto che oggi siamo andati noi oltre l'ostacolo e abbiamo messo qualcosa in più che ci ha consentito di portare a casa i tre punti. Il meglio la Lupa Roma è riuscito a fare nella ripresa quando ci sono stati dei campi importanti ed è entrato in campo anche per Rulli. Sì, ma dai, diciamo che la partita è stata equilibrata. Poi nel secondo tempo siamo usciti fuori con qualche giocata in più, però alla fine l'episodio del rigore ci ha permesso di portare a casa questa partita e l'episodio finale, diciamo, a nostro favore con la traversa di Luciani ha consolidato il risultato.